Un buon venerdì ritrovati dalla redazione di Sette in Punto. In questa prima parte di trasmissione ci occuperemo, lo vedete anche dal titolo, di agenti di commercio. Cercheremo di capire anzitutto chi sono gli agenti di commercio perché forse non conosciamo bene questa figura o meglio non conosciamo bene l'evoluzione che ha avuto nel corso degli ultimi anni, soprattutto la figura dell'agente di commercio. Per la prima mezz'ora chiacchiereremo di questo con il presidente di Usarci Verona, Massimo Azzolini. Buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie per essere venuto anzitutto. Allora, dicevamo, partiamo dalla base. La gente di commercio, una volta si parlava del rappresentante, così genericamente inteso, e lo si individuava in una fascia particolare. Era quella persona che magari girava con in macchina il campionario piuttosto che dei prodotti. Esiste ancora questa figura? Invece che cosa si intende quando si parla di agenti di commercio? Beh, intanto c'è da dire che parliamo di una categoria che oggi conta in Italia più di 300 mila operatori. È una categoria estremamente numerosa. Una buona parte di queste agenzie commerciali è strutturata. È strutturata in società, in società in SAS, in Comandità Sembice, piuttosto che in società in SNC e piuttosto che in SRL. Noi nella nostra associazione abbiamo addirittura delle SPA, agenti di commercio. Quindi ci sono agenti di commercio che hanno o, come lei dice, la struttura minimale, e quindi il campionario piuttosto che oggi l'iPad e il computer e quant'altro, ma ci sono anche realtà importanti strutturate con agenzie con deposito, agenzie con manutenzioni, agenzie con società di capitali, agenzie strutturate con subagenti, con collaboratori, con dipendenti. Quindi dipende un po' da quella che è la impostazione della struttura stessa. Quindi si va dall'agente singolo fino alla grande organizzazione che si occupa di intermediazione, e questo è il compito degli agenti di commercio, intermediare, vendere, proporre in Italia e nel mondo i prodotti delle aziende italiane ed estere. Possiamo dire che l'agente di commercio moderno non conosce i confini, ha molti meno confini di quelli che aveva il suo collega di 20-30 anni fa? Assolutamente sì. Parlavo questa mattina con un collega che mi diceva che il costo del trasporto dalla Sicilia a Milano è superiore da quello che è a Barcellona a Milano. Cioè oggi come oggi consegnare da qualsiasi parte del mondo in velocità in 24 ore è una cosa accessibile e facilissima. Quindi i nostri agenti, i nostri associati rappresentano in tantissimi casi aziende estere che operano per il territorio nazionale e il contrario, operano per aziende italiane e per il territorio estero. Quindi c'è il mondo davanti e in tutti i settori merceologici, dall'agricoltura, al commercio, all'industria, all'artigianato. È anche tra l'altro e rimane ancora un grosso bacino di potenziale lavoro. Perché effettivamente tantissime realtà imprenditoriali non hanno ancora avuto o la voglia o la capacità o il desiderio di avere una struttura di vendita. Vuoi l'artigiano che è mediamente strutturato? Oggi forse se avrebbe una struttura di vendita composta da agenti presenti sul territorio probabilmente avrebbe meno crisi di quello che è adesso. C'è una certa ritrosia ma il mondo degli agenti di commercio ha una potenzialità grandissima e molto grande. Molto grande. E un mondo questo che è cambiato immagino negli ultimi anni, a parte per gli aspetti che abbiamo detto, lei prima citava l'iPad, il tablet, la tecnologia. Quindi questo vi ha consentito anche di allargare proprio gli orizzonti anche mentali immagino, no? Sì, beh, tanto io ho visto anche, sarà perché sono tanti anni che sono all'interno della struttura, io ho visto anche un cambio dal punto di vista culturale, nel senso che tantissimi sono i laureati oggi che fanno questo mestiere. Quindi l'ingegnere che si occupa di componentistica, il laureato in economia e commercio, che si occupa di altre cose. Cioè, vedo un mondo, anche perché effettivamente oggi c'è bisogno di avere la conoscenza non solo delle strumenti informatici, ma anche delle lingue, in particolare l'inglese, se ci si vuole interfacciare con mercati esteri. Quindi è cambiato anche dal punto di vista culturale. Anche dal punto di vista culturale. Tantissimo. Tra le altre cose, in un momento come questo, di profonda crisi, in cui diciamo il tempo indeterminato è altro che una chimera, è proprio un sogno difficilmente realizzabile, questa può diventare una strada per mettersi in gioco, purché non diventi insomma magari un qualcos'altro. Ma guardi, le dico una cosa, per assurdo l'agente di commercio oggi, sembra che dico una cosa incredibile, ma è più protetto. Perché l'agente di commercio tendenzialmente è plurimandatario, ha più mandati. conseguentemente riesce in qualche modo a superare... Plurimandatario, spieghiamolo, sembra perché non sapesse. Esatto, c'è giustamente, perché a volte dopo è scontato. Gli agenti si dividono in monomandatari e plurimandatari. Il monomandatario vuol dire che ha un unico mandato che è costretto, contrattualmente, a lavorare per un'azienda soltanto. Però è una minima parte, diciamo un 20%, un 25%. Il 70-80% dei 300.000 agenti di commercio è plurimandatario, cioè ha più mandati, cioè rappresenta più aziende, seppur per prodotti diversi, però vicini. Abbigliamento, piuttosto che accessori, piuttosto che alimentari, prodotti diversi, o altri settori, l'edilizia, piuttosto che altre cose. Quindi avere più mandati significa che non si, diciamola in modo semplice, non si rimane mai a piedi. Certo, perché se va male da una parte, sono in teoria. Parte recuperata e dopo ne recupera un'altra ancora. Cioè quindi alla fine, per assurdo, l'agente plurimandatario che rappresenta appunto questo 70-80% è più tutelato di un dipendente, perché il dipendente purtroppo sappiamo che a volte le aziende chiudono e hanno grossissime difficoltà di reinserimento, anche perché, come giustamente dice lei, un contratto di dipendente a tempo indeterminato oggi è già molto difficile. È molto difficile. Senta, una volta si partiva, non so, c'era un fisso più la percentuale e magari la possibilità di scaricare una serie di spese, eccetera. Succede ancora questo oppure in questo periodo in cui, diciamo, la contrattazione, cioè i margini sono molto più stretti, no? Cioè se vuoi lavorare comunque devi, immagino, quantomeno insomma adattarti a una situazione... Sì, beh, lì è chiaro che rientrano in quella che è la contrattazione tra le parti. Diciamo che la gente che ha una buona conoscenza di uno specifico settore marceologico non solo non ha difficoltà di trovare lavoro, ma è ambito. Certo. Perché tantissime sono le richieste che magari arrivano alla sua casella di posta elettronica. Si conosce a vendere, ovviamente. Ma anche soprattutto perché è introdotto, conosce la clientela. Parliamo per fare degli esempi pratici della grande distribuzione. La gente che ha introdotto nei vari supermercati e conosce i buyer, ha un rapporto particolare, è evidente che... Ha già una specie di portafoglio. Portafoglio clienti importante e l'azienda lo cerca per potersi inserire in certi settori, in certi clienti importanti. Quindi quella gente ha una forza contrattuale notevole e nel momento in cui acquisisce nuovi mandati può anche pretendere qualcosa in quanto dà tant'altro. Ecco, questo è un po'... Quindi dipende un po'... Mentre per chi inizia ovviamente è più difficile. Ma le dirò che io parlavo poco tempo fa con un imprenditore e mi diceva che effettivamente i nuovi agenti guardano giustamente, guardano molto quello che può essere un fisso iniziale oppure un acconto provvigioni non conguagliabile o comunque un minimo garantito provvigionale. Beh, ovviamente perché se uno parte all'inizio, come fa, della macchina, i costi, le tasse e quant'altro, oggettivamente ci deve essere un aiuto. Però dipende se è monomandatario o plurimandatario. Infatti il compito delle associazioni di categoria come l'usarci è proprio quello di aiutare, indirizzare, fare una consulenza sui contratti di agenzia, dare una mano soprattutto e anche nella parte iniziale dell'attività. Quindi oltre che l'aspetto fiscale e quant'altro, ma anche dell'aspetto proprio commerciale, di consiglio operativo. gli si spiega se, oppure gli si dice, beh, questa azienda secondo me, o questa, ma secondo me potresti far così, modificare il contratto. Quindi l'invito, ecco, visto che si parla di una televisione generalista, come in questo caso qua, non specifica, è quello di chi inizia l'attività, dal mio punto di vista, si deve appoggiare ad un'associazione di categoria. Sì, è chiaro, io dico l'usarci perché l'usarci... Perché insomma gioca in caso. Chiaramente, però ci sono anche altre associazioni, quindi l'importante è non essere soli, ecco, questo è il messaggio che... Perché si rischia magari, specie in questo periodo, di passare, diciamo, dalla padella alla braccia, nel senso di essere magari sfruttati... Sì, diciamo che poi, ecco, una delle quelle che sono le tendenze è quella di fidarsi esclusivamente del commercialista. Ecco, questa è una cosa che io vedo e noto, no? Cioè, come se il commercialista fosse un tuttologo, che conoscesse i contratti di agenzia, che conoscesse i problemi del Nasarco, dell'Inps, della Previdenza... E non è così, perché il commercialista si occupa esclusivamente della parte fiscale, non si occupa tanto. Di contratti o... Invece, gli agenti, ma anche tra l'altro, non solo i nuovi, ma anche quelli che sono un po' avanti negli anni, ma il commercialista mio non mi ha detto che... Ma non è il commercialista che deve dire queste cose qua. Purtroppo si fa fidamento sempre con la figura, e invece... Va bene, ma per altri motivi magari... Va bene per altri motivi, ma... Anche nell'ambito fiscale, tante volte il commercialista, non me ne vogliono i commercialisti, ma loro guardano solo un aspetto, che è l'aspetto fiscale. Ma assieme all'aspetto fiscale ci sono anche altri aspetti contrattuali che ne vanno vicini, perché... Sì, fai la società perché ti conviene, sì, però magari perdi l'indenità di fine rapporto. Ho risparmiato 10, ma ho perso 20. Quindi bisogna vedere... Bisogna valutare tutto il nazionale di cose. Bisogna valutare caso per caso. Quindi il compito delle associazioni di categoria, in particolare in questo caso l'usarsi, è proprio quello di affiancare l'associato nelle varie specificità, nel cammino della sua attività di lavoro. Ma come si diventa agente di commercio? Ecco, si diventa agente di commercio iscrivendosi al registro delle imprese con una serie di requisiti che derivano da una legge, che è la legge dell'85, che prevede la possibilità di entrare per tre modi. O per titolo di studio, quindi un titolo di studio di ragioniere o equipollente, c'è una serie di equipollenze, oppure ho laureato in economia e commercio, vabbè, insomma, in scienze politiche, oppure in giurisprudenza, ma anche una serie di equipollenze come ragioniere, perito commerciale, e quant'altro, oppure per aver fatto due anni addetto alle vendite come dipendente, ma anche come collaboratore autonomo, diciamo, di azienda, due anni negli ultimi cinque nel settore delle vendite, quindi di poter dimostrare, di avere un'esperienza nell'ambito delle vendite, oppure aver fatto un corso specifico, che ci sono i corsi specifici, cammini di commercio, regione, di 80 ore, più ore, che permettono di avere i requisiti di iscrizione al registro delle imprese, perché necessitano questi requisiti. E poi bisogna, immagino, aprire una partita IVA? Perché chiaramente, una volta che si hanno, uno può avere la patente e può anche non avere la macchina. Ecco, importante, quando si ha la patente, quindi una volta che si hanno i requisiti, si può anche iniziare l'attività di agente, però ci sono anche tanti ragazzi che magari fanno il corso, pensando poi di poter fare l'agente, ma magari poi non lo fanno. Durante il cammino, insomma... Fanno altri mestieri, ecco. Quindi il corso, che nella regione Vento è di 80 ore, prevede uno studio specifico, contratto di agenzia, aspetto fiscale, È un corso che costa... Diciamo che ha un costo mediamente sulle 400-500 euro, ecco, 350-450, dipende insomma dalle regioni, dalla Camera di Commercio, dall'ente che fa il corso, dalle 4 alle 500 euro mediamente, ecco, questo è il costo del corso. Capito. E invece, a livello, insomma, di... cioè il fatto di diventare agente di commercio, voglio dire, quanto poi si può lavorare, quindi quanto poi si può guadagnare, guadagnare, consente che cosa, lei prima citava il commercialista, l'aspetto fiscale, e se uno diventa agente di commercio, può? Non so, ci sono delle... Beh... Delle agevolazioni, piuttosto che... Beh, allora, ovviamente tutti quelli che sono i costi legati alla propria attività, quindi il costo dell'auto, il costo dei trasferimenti, il costo degli alberghi, ristoranti, la manutenzione, i convegni, corsi, formazione, cioè tutto quello che riguarda l'attività, viene naturalmente... Anche l'internet, piuttosto che il telefono... Beh, certo, la telefonia è mobile, fissa, sì, sì, tutto ciò che ha un concetto, come dice un commercialista, o il commercialista, è il concetto di inerenza, tutte quelle che sono le spese inerenti, l'attività della gente, sono regolarmente deducibili dal reddito dell'impresa, e quindi chiaramente quello che è poi la tassazione che grava sul reddito netto sarà l'importo lordo decurtato di quelle che sono le spese, la previdenza, l'inasarco, l'inps, le spese di lavoro, la macchina, l'ammortamento della macchina, tutte quelle che sono... Ma chiaramente qua entriamo un po' nella specificità. Certo, ma solo per capire, poi insomma noi non vogliamo entrare nello specifico specifico. quali sono invece diciamo le problematiche? Allora abbiamo visto che i numeri tutto sommato non calano. No, non calano, anche a livello veneto abbiamo visto, abbiamo un'ultimissima statistica. Chiaro, stiamo parlando di una fase decisamente difficile del mercato. siamo in recessione piena. Esatto, quindi parlare di tenere i numeri è un grosso successo. Abbiamo un... sì, un tenere i numeri in quanto abbiamo visto che c'è stato un leggero calo del numero degli agenti però un maggior aumento del numero di procacciatori. Procacciatori d'affari. Procacciatori. Questo è un segnale. Che ci spieghi chi sono, ovviamente. Ecco, è un segnale perché il procacciatore d'affari è una figura che è vicina all'agente di commercio però ha una occasionalità. Cioè, il procacciatore è chi occasionalmente procaccia affari. Quindi dice all'agente di commercio guarda, io ti offro... Cioè, è una specie di ponte? Sì, eh sì. La caratteristica è che il procacciatore qua entriamo un po' ecco nello specifico. La caratteristica è che il procacciatore d'affari non è soggetto a Nasarco quindi diciamo anche questo che tante volte le aziende cercano queste figure per non avere i contributi da pagare. Però in realtà non è che un agente o che un procacciatore è tale in base al nome che ha è in base al lavoro che svolge. Certo. Quindi l'occasionalità fa la differenza. Brava, brava. Se è effettivamente occasionale è procacciatore se è chiamato procacciatore ma è abituale allora c'è qualcosa diciamo da chiarire. E infatti vi subentrano le ispezioni in Nasarco le sanzioni in caso di vabbè questa è un'altra questione. E a livello di siccome voi poi vi interfacciate con le aziende aziende che insomma sempre più spesso sono in difficoltà nei pagamenti pagamenti dilazionati sia che lavora con il pubblico che con il privato a questo problema è una cosa di cui risentite anche voi come agente di commercio? Tantissimo tantissimo perché effettivamente direi che c'è una data storica siamo purtroppo già nel 2013 ma io dico che la data storica è il settembre 2008 dal settembre 2008 le cose sono purtroppo cambiate e purtroppo noi anche a livello perché dal settembre 2008 è cominciata la questione le manbrada la questione di problemi allora da allora io ho visto un cambio sono cominciate le difficoltà siamo già nel 2013 non so quando finirà però sta di fatto che da allora c'è stata una serie di difficoltà oggi per dire noi abbiamo le cassettiere piene di situazioni di concordati fallimenti vertenze e purtroppo quando si entra in vertenza è perché l'azienda non so se va avanti non so se va avanti quindi quello è guadagno perso e poi se l'azienda rimane in piedi in tanti casi ritardi di provvigioni notevoli però quando si comincia a non pagare la gente la gente di commercio vuol dire che è l'inizio della fine perché è come non mettere benzina alla macchina se non metti benzina la gente che ti procura anche perché se cominci a ritardare il pagamento a provvigioni la gente comincia a non dico fermarsi ma rallenta e scatta un meccanismo a cascata e poi cosa fa un agente soprattutto come dicevo prima essendo plurimandatario se comincia a vedere che un'azienda non paga molla e si sposta e spende le proprie energie per le altre aziende quindi è consigliabile far pensare questi imprenditori prima di cominciare a non pagare gli agenti perché voglio dire è come darsi la zappa sui piedi nel momento in cui cominci quella storia lì non ti procaccia più affari è una catena insomma un agente vive di provvigioni non è che quindi le provvigioni sono sacre noi diciamo certo sono sacre gli agenti di commercio vanno pagati andrebbero pagati tutti per la verità tutti noi adesso lanciamo la pubblicità due minuti e torniamo a parlare di agenti di commercio rieccoci in studio stiamo tentando di capire un po' insomma ce la stiamo anche facendo grazie al nostro ospite come è cambiata la figura degli agenti di commercio e quanto è importante capire anche abbiamo capito prima della pubblicità le difficoltà perché sono il segnale poi di quanto un'azienda sta bene o meno la crisi insomma morde si dice insomma adesso tutti piaci dire che la crisi morde e purtroppo è vero quello che volevo chiederle a questo punto è che cosa è che si potrebbe fare per insomma tentare in qualche modo di arginare la crisi per affacciarsi su altri mercati che cosa si può fare e di cosa però magari avete bisogno voi beh allora noi nelle nostre attività abbiamo tantissimi contatti con le associazioni industriali app industria piuttosto che confindustria confartigianato associazioni artigianali in genere notiamo una certa passatemi il termine pigrizia una certa pigrizia da parte di fasce di imprenditori nel rendersi conto quanto oggi è importante e indispensabile avere una forza vendita una rete commerciale una struttura di agenti in particolare perché per l'imprenditore l'agente è un collaboratore di grandissima e utilità e convenienza perché come si diceva prima l'agente di commercio è quel soggetto che promuove l'affare porta alla conclusione dell'affare e deve sapere muoversi perché magari un imprenditore può avere l'idea ma se non sa da chi andare l'agente di commercio le agenzie commerciali o comunque gli agenti di commercio hanno tantissime conoscenze tantissimi inserimenti e conseguentemente riescono ad arrivare alla conclusione di affari non soltanto in Italia ma anche all'estero perché noi come dicevo prima abbiamo tantissimi agenti che operano all'estero e soprattutto questi agenti vengono pagati quando l'imprenditore o l'impresa ha già incassato quindi meglio di così voglio dire non c'è però notiamo che c'è una certa difficoltà soprattutto per le piccole aziende pensare di avere una rete vendita pensare doversi occupare anche di mercati un po' lontani perché oggettivamente il mercato italiano oggi è così maturo che non è più così interessante il made in Italy nel mondo è molto ambito si tratta naturalmente di riuscire ad arrivarci quindi con fiere io penso la Russia il mercato cinese il mercato dell'Arabia del mercato orientale ci sono veramente la Turchia stessa sta lavorando molto bene con l'Italia quindi ci sono mercati che potenzialmente enormi ma non realizzati e quindi lei dice per pigrizia e anche insomma mancanza di voglia di mettersi in gioco o forse è anche c'è anche un aspetto culturale cioè si vive un po' di rendita e si pensa che i mercati i mercatini i mercati quelli più vicini che sono ormai in realtà saturi possano bastare sì si pensa sempre che il mercato italiano sia sufficiente come dicevo prima avevo parlato con un imprenditore poco tempo fa che diceva ma adesso speriamo che questa crisi finisca per ritornare come prima in realtà come prima non si tornerà più perché l'assorbimento in Italia della produzione teniamo presente che in Europa l'Italia è la seconda realtà manifatturiera e non è una questione di prezzo perché la Germania ha prodotti che costano cari e va bene l'Italia ha prodotti di eccellenza potrebbero essere anzi sono certamente più costosi e potrebbe andare uguale o meglio della Germania quindi non è sempre il solito ragionamento ma noi abbiamo il costo del lavoro più alto conseguentemente non abbiamo spazio non è così non c'è solo quello dice l'Italia no perché c'è la fascia medio alta che possono vivere i nostri prodotti e gli agenti di commercio hanno grossissime potenzialità come già svolgono perché noi abbiamo agenti che vendono i marmi per dire in Brasile piuttosto che negli Stati Uniti piuttosto che in Germania ed è perduto quindi dico marmi può essere settore abbigliamento ma veramente in tutti i settori anche perché ormai la tecnologia ha zerato le distanze non è che devi andare voglio dire per forza in Brasile cioè magari ci potrei andare per conoscere forse il mercato ma non è che tutte le volte che vendi qualcosa devi prendere il tuo mezzo e andare lì certo la tecnologia ha certamente facilitato i contatti a livello planetario conseguentemente la gente tante volte lavora anche dall'ufficio l'ufficio o proprio o dell'azienda stessa perché tante volte ci sono agenti che operano all'interno dell'azienda poi si spostano periodicamente e vanno a trovare i clienti però il mondo è grande e le potenzialità sono veramente infinite spiace vedere ecco questa è la mia asservazione spiace vedere che in Italia le aziende tante aziende chiudono quando magari che ne so le piastrelle sono ambite nel mercato cinese e le fabbriche di piastrelle italiane chiudono perché non hanno la capacità la voglia la struttura per per venderle lì esattamente mentre le piastrelle insomma le fanno bene le fanno meglio di tutti per bacco sì per bacco sì certo e quindi insomma diciamo che il made in Italy tira cioè tira da sempre ed è uno insomma delle poche certezze forse che abbiamo come paese il problema è che non sappiamo venderlo questo made in Italy c'è anche un problema di frammentazione cioè se si va nelle fiere magari vedi la fiera della Francia Germania lo stand poi vedi Borgo Santa Croce Borgo Val Sugana Borgo perché noi siamo purtroppo l'Italia dei comuni e già voglio dire da una città all'altra certo o la camera di commercio di piuttosto che ma non è quello cioè deve essere una struttura purtroppo noi paghiamo anche la nostra storia dal punto di vista proprio storico e siamo l'Italia delle frammentazioni e anche nel mercato però se prima poteva tira andare bene oggi se non si fa rete se non si fa sinergia diventa difficile competere a livello mondiale quindi però ripeto la figura della gente in questi casi è molto importante come è stato il passaggio generazionale invece per quanto riguarda la vostra professione diciamo questo che ancora vige il passaggio proprio di padre in figlio perché noi vedo tantissimi nostri associati sono attuali associati ma erano associati i loro papà addirittura anche i loro nonni in tanti casi perché la nostra è un'associazione che è nata nel 49 per cui diciamo che ha visto una serie di generazioni chiaro che l'agente di commercio che ha il padre che era agente di commercio eccetera ha dei vantaggi notevoli seppur oggi non è più soltanto così perché c'è un veramente un mondo nuovo anche di prodotti nuovi penso la telefonia penso l'energia penso il settore dell'informatica cioè ci sono settori che un tempo non c'erano non c'era il venditore di siti internet un tempo oggi c'è per farne esempio quindi ci sono tanti settori nuovi che non possono godere di una di una serie di generazioni precedenti perché il prodotto prima non c'era quindi c'è tanta novità ma anche un vantaggio perché c'è tanto spazio per i giovani c'è tanto spazio di lavoro per i giovani e meno giovani che hanno voglia di fare certo questo insomma mi pare che poi questa è una frase ricorrente nonostante poi cammino le figure sedute al suo posto c'è la voglia di fare magari avere l'idea che può essere vincente e provare a rischiare forse insomma classicamente storicamente periodi di crisi proprio perché di fatto insomma magari non si perde moltissimo consentono di mettersi in gioco sì anche perché oggettivamente la figura dell'agente di commercio non è una figura di imprenditore seppur noi rientriamo nella famiglia degli imprenditori l'agente di commercio ha un bassissimo investimento conseguentemente se chiude con un'azienda può ripartire con un'azienda che ne so tedesca per il mercato italiano o piuttosto che israeliana o quell'altro giorno mi si parlava di un'azienda algerina fa un esempio che sta inserendo nel mercato i biscotti con la confettura di datteri e andrà a una produzione ci sarà una produzione e quindi la gente è interessata quindi c'è veramente infinita veramente è uno spazio enorme e quindi se ci sono giovani o non che si vogliono affacciare questa professione la nostra organizzazione è sempre pronta voi siete a disposizione allora www.usarci.it noi salutiamo Massimo Azzolini presente Usarci di Verona buon lavoro grazie a voi invece state lì perché c'è un altro ospite tra pochissimi minuti grazie 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 grazie